Le conseguenze di Tangentopoli sulla politica italiana, la guerra fredda vista come falsa rivoluzione, la svendita del patrimonio pubblico e l'operazione Mani Pulite. Sono stati questi gli argomenti discussi durante il convegno svoltosi presso l'Università di Teramo alla presenza tra gli altri del sottosegretario per i rapporti con l'ONU sotto il governo Prodi, Bobo Craxi, che oltre a parlare della fine della guerra fredda ha commentato il referendum costituzionale del 4 dicembre. Andrò a votare no, ma intanto perché entrando all'università ho visto che viene scolpita l'articolo 1 della Costituzione e quindi io penso che tutto ciò che in qualche modo tocca e lede i fondamenti della nostra Repubblica rischia di trasferirci in un futuro ignoto. Secondo perché è malfatta. Terzo, non mi nascondo il fatto che c'è stata una prepotente azione del capo del governo. Il ministro dei governi democristiani Paolo Cirino Pomicino, oltre all'intervento dal titolo Un paese politicamente disarmato, ha così definito la conseguenza di tangentopoli sul territorio italiano. La messa in soffitta delle grandi culture politiche. Immaginate se ad esempio la Germania avesse avuto una stessa evoluzione come la nostra e per cui avremmo visto un sistema politico in cui ci sarebbe stata Forza Germania, il cavallo, il fiore, il cespuglio, le sette lune e quant'altro. Che cosa avreste detto di quel grande paese? Quello grande paese è rimasto invece vincolato alle grandi culture politiche. Il cattolicesimo politico, il socialismo democratico, i verdi, i liberali. Certo, poi ci sono anche gli aspetti populistici e nazionalistici, ma non c'è dubbio. Però le grandi culture politiche restano il fondamento di quella grande democrazia. Questo è accaduto in Germania, è accaduto in Francia, è accaduto in Austria, in Spagna. Noi invece ci siamo dilettati fra la Margherita, la Quercia, i Cinque Stelle, Forza Italia qua, Forza Italia là, insomma, Fratelli d'Italia, Traporlo, le Sorelle Bandiere e quant'altro. È una storia della quale ci si può porre l'interrogativo se bisogna riscriverla. A mio avviso sì, siamo qui per questo. I vinti, ha spiegato Claudio Moffa, coordinatore del Master, sono i cittadini italiani colpiti dalle conseguenze economiche di Tangentopoli.